Noi siamo produttori di filamento per la stampa in 3D, sarebbe praticamente per chi non ha dimestichezza con la stampa 3D il classico toner che va bene per le stampanti normali. Abbiamo la sede in Slovenia, la produzione in Slovenia e noi produciamo, ci sono vari materiali plastici, soprattutto il PLA, però poi facciamo anche materiali un po' più tecnici come il PLA+, il PTG oppure anche materiali gommosi come il TPE e il TPU. Sono tutte sigle un po' particolari, però sono materiali, dei fili che poi inseriti nella stampante vengono fusi e si riesce a creare oggetti di vario tipo a tre dimensioni. Ormai le stampanti sono molto diffuse, quasi si può dire anche a livello così amatoriale in casa si può avere una stampante e noi produciamo proprio quel filamento che dà vita poi all'oggetto creato.